Allora benvenuti, eccoci a vedere una volta per tutte, visto che me lo chiedono sempre a tutte le mie lezioni come fare per abilitare l'upload delle mesh in Second Life, quindi entrerò con un avatar che non è ancora abilitato a scaricare le mesh come faccio? Faccio il login dentro il sito solito, qui sono quindi su secondlife.com al lato del login entriamo con il mio, ecco con tutte le mie credenziali al momento di ingresso il sito mi fa vedere queste cose, abbiamo l'account io lo vedo in inglese ma comunque dovrebbe essere comprensibile prevenendo account abbiamo Mesh Upload Status Mesh Upload Status vedete che mi dice Payment Information allora Payment Information vuol dire informazioni legate alla carta di credito nel momento in cui ho No Payment Information on file non va bene, vedete che è in rosso così come non ho fatto l'IP Tutorial quindi per riuscire a fare l'upload delle mesh tra l'altro, vediamo una dimostrazione lampante quindi se noi ci colleghiamo a Second Life ok, a parte no, l'avatar non è neanche nuvolo vedete che sono collegato eccoci qua in Word ora se io cerco di fare un avatar upload e cerco di uploadare un mesh model ok, e poi andiamo dove abbiamo un DAE dei DAE, dei collada file registrati prendiamo colonna .DAE facciamo Open vedete che qui c'è una colonnina pronta per essere caricata colonna facciamo OK eccolo qua Note, you don't have rights to upload mesh models quindi non ho i diritti per scaricare mesh models quindi ho bisogno di diventare certificato quindi qui potrei anche cliccare qua e Mesh Upload Status mi riporta esattamente la pagina originale che abbiamo visto prima dove eventualmente devo fare il login quindi qui mi mancano due informazioni quindi non ho il payment info e non ho fatto l'IP tutorial allora come faccio per mettere un payment info andiamo su my payment info non ho payment info metto su un file quindi devo fare un ad paypal piuttosto che un ad credit card quindi inserisco una paypal allora vedete che qua mi dice di entrare con la paypal facciamo usiamo il mio ecco entriamo con la mia credenziale di paypal perfetto perfetto nel momento in cui ha accettato le condizioni do conferma viene verificata viene verificata la paypal e vedete che a questo punto la carta paypal risulta a posto quindi se noi una volta inserito queste informazioni andiamo in Mesh Upload Status vedete che il payment information is on file è diventata verde io la chiamo questa cosa anche P-off P di payment information on file P-off però non abbiamo ancora fatto l'IP tutorial allora l'IP tutorial è una sequenza di domande che sono relativamente semplici da rispondere e sono domande di buon senso quindi andiamo sull'IP tutorial quindi lui ci dice ciao eccetera le proprietà intellettuali sono importanti sono anche confondenti e quindi ci chiede di compilare questa specie di questionario andiamo a compilarlo allora lui ci chiede prima domanda tra l'altro voi eventualmente se fate questa procedura ve le trovate le domande magari in un ordine diverso perché vengono presentate e non nello stesso ordine quindi la prima domanda è Daniele è un artista di talento e anche un fan di cinema Daniele ha fatto un modello tridimensionale che sembra proprio come un personaggio del suo film preferito e vuole usarlo come Avatar in Second Life la domanda è può Daniele fare l'upload del suo modello come Mesh e usarlo per il suo Avatar in Second Life? ovviamente no perché dovrebbe chiedere il permesso e lui mi dice that's right quindi vado alla prossima domanda notate che se per caso avesse risposto sbagliato lui mi dice è sbagliato e poi mi consente di rifare la risposta e quindi io vado riprovo finché non ci riesco seconda domanda Maria ha creato un avatar che si avvicina assomiglia fortemente la sua stella del cinema preferito l'avatar è composto da parecchie Mesh fortemente dettagliate delle texture che Maria ha fatto usando del software di modellazione tridimensionale e altri strumenti grafici quando è che è ok per Maria fare l'upload di un avatar come questo su Second Life? allora se Maria è la più grande fan della celebrità e ovviamente no secondo se Maria è la proprietaria dei diritti intellettuali oppure è autorizzata dal proprietario dei diritti e questo forse il terzo è se Maria gli dà il suo avatar un nome cioè dà al suo avatar un nome che non è lo stesso della noma della celebrità e ovviamente è il secondo cioè deve avere i diritti oppure è autorizzato dal proprietario dei diritti quindi andiamo avanti altra domanda usando qualche un certo software di modellazione 3D Katia ha creato un modello di una macchina ha impiegato settimane per prendere il modello per fare il modello e se vuole vendere copie di questa macchina in Second Life Katia ha uploadato la macchina come Mesh in Second Life e l'ha messa in vendita sul marketplace in Second Life il testo dell'inserzione insomma della pubblicità di Katia dice assomiglia proprio a una Mercedes allora questa domanda è ok no perché sta usando un marchio registrato Mercedes e quindi anche se assomiglia a Mercedes non si può that's right andiamo avanti altra domanda Davide è un accanito fan sportivo e vuole condividere il suo entusiasmo con altre persone residenti in Second Life Davide ha uploadato un grande un enorme elmetto fatto di Mesh con il logo della sua squadra di calcio insomma sport favorita impresso su di esso Davide ha decorato l'esteriorit della casa di Second Life con l'elmetto quando è che è ok per Davide di usare questo logo in Second Life? la risposta può usare il logo finché include il simbolo registrato e direi di no Secondo può usare il logo fin tanto che non lo vende su altri residenti sarebbe interessante ma non è così perché non può usare il logo perché per usare il logo in teoria deve avere il permesso andiamo avanti ne vengono fatte tre andiamo alla quarta allora Tom Maso Tom ha comprato ha acquistato l'appartenenza a un website un sito web che gli offre dei lavori creativi come gli offre scaricare dei file 3D come dei modelli 3D ai suoi membri i termini d'uso sul sito web dicono esplicitamente che i modelli non possono essere venduti come sono ma possono essere rivenduti se sono aggiunti a qualche creazione originale allora la domanda è può Tom fare l'upload dei modelli 3D come Mesh in Second Life e quindi venderli esattamente come sono ad altri builder sul marketplace Second Life ovviamente no perché gli è stato detto che può vendere solo se è stato aggiunto delle creazioni originali e quindi andiamo avanti prossima domanda le abbiamo fatte 5 e andiamo avanti Jill è un progettista di moda molto popolare in Second Life ha creato una linea di Mesh di borsette e di scarpe e vuole chiamare questa marca chiamarla Nike con l'1 al posto della Y va bene questo? ovviamente no perché non va bene perché Nike è già un marchio registrato e infatti andiamo bene next question andiamo avanti Darlene vende delle colonne Mesh full permission degli archi dei tetti per altri residenti per usarli nei loro edifici in Second Life Darlene include una note card con gli item la note card indica che gli item possono essere solo rivendute rivendute come parte di una creazione originale e non devono essere rivendute come elementi a sé stanti Sully ha comprato gli oggetti Mesh da Darlene e vuole rivenderli allora cosa può fare Sully? può includere gli oggetti Mesh in una casa prefabbricata che ha creato e quindi vendere la casa e questa mi sembra di sì comunque vediamo gli altri vendere gli oggetti Mesh come Item Standalone fin tanto che crea una nuova impacchettatura e direi di no il permesso il settaggio dei permessi sulle Mesh sono Full Permission e quindi può fare quello che vuole con loro e direi di no può vendere gli oggetti Mesh come Item Standalone finché fa la rename di ogni oggetto e direi di no e quindi la prima cosa è quella giusta e siamo a 6 andiamo avanti next question allora usando certi strumenti alcuni strumenti di modellazione 3D Becky ha creato alcuni bellissimi orsacchiotti che più tardi ha scaricato come Mesh su Second Life gli orsacchiotti quando vengono cliccati suonano una selezione insomma un elenco di canzoni romantiche molto conosciute che Becky però non ha il permesso di usare è una cosa corretta risposta ovviamente s'avanzo a dire cioè non ci bisogna neanche dirlo no andiamo avanti ne abbiamo fatte 8 ne mancano 2 allora l'IndenLab ha rimosso le Mesh di Barbara o di altri o altri contenuti Second Life ma non ha rimosso altri contenuti simulari di altri come mai questo? magari perché l'IndenLab non è ancora scoperto o non è stata notificata dagli proprietari dei diritti su contenuti similari e questo è probabile oppure il fatto è che Barbara non aveva un premium count direi di no gli altri contenuti similari in realtà erano più carini di quelli fatti da Barbara e direi che la risposta ovviamente è la prima cioè che Second Life non ha ancora scoperto la violazione andiamo avanti next question allora quando si fa l'upload delle Mesh o si creano altri contenuti per Second Life quali delle seguenti cose sono importanti da fare se volete rispettare i diritti di proprietà intellettuali come i copyright i trademarks e i diritti delle celebrità allora non usate dell'immagine di celebrità o loro aspetto senza permesso e questo andrebbe anche bene ma aspettate un attimo non usare mai dei loghi famosi o dei nomi di marca nelle vostre creazioni senza permesso e questo si anche non usate mai del materiale copyright come delle musiche o dei personaggi dal cinema o dei libri senza permesso e anche questo sarebbe bello quindi tutti di sopra cioè tutte le tre cose di prima vanno bene a questo punto abbiamo finito facciamo sì ma il score vediamo un po' il punteggio e direi che abbiamo fatto 10 su 10 comunque non importa anche se per caso avete sbagliato da alcune parti comunque in prospettiva avete fatto tutto allora andiamo a vedere sul nostro account e vediamo se a questo punto Mesh Upload Status come appare e vedete che adesso abbiamo verde di sopra e verde di sotto e quindi direi che dovremmo essere in grado di scaricarlo quindi andiamo di nuovo sul nostro sulla nostra opzione dove prima ci diceva che non potevamo farlo e ritentiamo l'upload quindi dobbiamo chiudere il nostro oggetto facciamo avatar upload mesh model andiamo su qua prendiamo di nuovo la nostra colonna che prima avevamo detto che non ci lasciava fare facciamo open e vedete che adesso non ci dice più quello che ci diceva prima quindi possiamo andare in colonna ok e poi possiamo fare adesso qui di vertici magari prendiamo un po' di vertici ah ok non c'è abbastanza denaro per fare questo però non è quel problema vedete che me l'avrebbe fatto fare quindi in realtà sono riuscito a bypassare tutto il problema allora un'altra domanda molto importante è come fare per scaricare per garantire la possibilità di entrare con Addity Addity sapete che si può entrare con Addity attraverso l'opzione che entra appunto sulla grid di prova in quel caso lì non pago niente però attenzione la grid di Addity viene rinfrescata una volta ogni tanto e quindi se io entrassi con questo mio avatar nella grid di prova i dati non sarebbero comunque quelli giusti e soprattutto non sono completamente allineati con Second Life allora cosa dobbiamo fare? dobbiamo rifare tutto il procedimento sulla griglia di Addity quindi cosa ho fatto? ho cercato Second Life Addity Login qui vedete che c'è un How do I Login to Addity oppure vediamo un po' Mesh Second Life Wiki che forse ci piace di più ecco vedete che qui c'è scritto to upload render mesh content you need a mesh enable viewer eccetera eccetera e poi dobbiamo ripetere la mesh tutorial for the beta grid Addity quindi dobbiamo andare in nuovo qua e qui vedete che ci richiede login e qui dobbiamo ripetere le nostre credenziali però questa volta stiamo entrando in Addity e lo vedete perché in cima si è scritto Addity e non Agni o altre cose quindi quando entriamo nel qua vedete che se noi torniamo sull'account e andiamo sul mesh upload status ai suoi tempi adesso probabilmente la grid Addity è fin giù comunque qui dovrebbe comprare lo stato che probabilmente come minimo fa vedere che non sono compilati il questionario e non c'è eventualmente il payment info il payment info lo potete reinserire qua oppure aspettare un attimo che sia propagato per farlo propagare a volte basta cambiare la password ci sono tutta una serie di trucchi oppure mandare una mail alla Linden F5 ancora e se entra e no direi che in questo momento è giù comunque ci siamo capiti questa è tutta la procedura che è necessaria per poter fare l'upload delle mesh e con questo è tutto vi saluto e ci sentiamo alla prossima lezione di Blender buonasera grazie a tutti grazie a tutti